buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv iniziamo insieme una nuova settimana con il tempo che è un po' ballerino perché dopo il sole che finalmente era tornato e la gente veramente aveva il piacere di uscire di casa a fare una passeggiata dopo quattro giorni di tempo perturbato ebbene questa settimana inizia con il ritorno del maltempo insomma lo vediamo dopo ma prima prima vediamo chi è il santo del giorno perché è un santo che è amato e venerato da tutti eccolo nella grafica e San Pio da Pietralcina e devo dire la verità che non basterebbe l'intera rassegna stampa per descrivere l'opera e la figura di San Pio allora Francesco Forgione frate Capucino che verrà festeggiato oggi in modo particolare con solennità nella basilica di San Paterniano San Pio era un frate Capucino sappiamo che la basilica di San Paterniano è gestita dai frati Capucini fin quando ci saranno e speriamo di trattenerli ancora per molto anche se le prospettive non sono rose possiamo dire che nel dolore delle stimmate padre Pio intravide la felicità del paradiso ed è questo l'insegnamento che ci offre questo padre Capucino la cui immagine appare in molti ospedali nella sofferenza non bisogna mai perdere la speranza nel mistero d'amore con Cristo questo è un po' l'insegnamento che ci ha dato padre Pio la cui venerazione continua molto molto praticata molto intensa dopo la sua morte con tanti pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo e ci ho detto passiamo passiamo ora alle previsioni del tempo ecco ancora questa mattina il tempo è accettabile però nel corso della giornata una perturbazione raggiungerà le marche portando rovesci e temporali nonché anche un calo termico e venti in riforzo insomma la temperatura precipiterà al momento è stata di 17 la minima è di 24 gradi la massima sulle coste i venti ispireranno con una tensione media da sud-est e l'entroterra da est-sud-est e il sole il sole è sorto alle 6.54 e tramonterà alle 19.05 allora fatto questo inizio passiamo alla rassegna stampa e vediamo oggi lunedì dato che i giornali hanno una fogliazione ridotta passiamo alla prima pagina di consuntivo delle notizie regionali nel resto del Carlino eccola qua la prima pagina vediamo subito Pesaro Pesaro una gran raduno tanta tanta gente si è radunata in piazza del popolo e sono i volontari della protezione civile una grande festa premiati in 2.500 sono coloro che hanno collaborato per cercare di prestare aiuto agli alluvionati nel 2022 e purtroppo quella non è stata l'unica occasione di intervento dei volontari della protezione civile in quanto tutt'oggi siamo ancora immersi in una situazione molto molto precaria per quanto riguarda lo stato idrico del nostro territorio e in comi ai volontari protagonisti dell'alluvione del 2022 ringraziamenti a chi è intervenuto nella redente emergenza insomma vediamo qui poi vedremo anche una bella fotografia anzi la vediamo subito sul Corriere Adriatico guardate quanta gente indossante le divise della protezione civile veramente tanta gente si è radunata in piazza del popolo omaggio agli angeli dell'alluvione le altre notizie un altro raduno importante si è svolto a Pesaro ed è quello degli appassionati delle moto della moto Benelli per la Benelli mega raduno con migliaia di appassionati e poi a Fano invece ancora la terza disinfestazione in merito alla zanzara tigre che è la portatice del dengue questa brutta influenza che sta serpeggiando che sta dilagando un po' nella popolazione fanese vedremo poi come i casi sono aumentati ebbene disinfestazione ovunque contro la dengue e poi dopo le tre disinfestazioni che sono terminate proprio questa notte pochi minuti fa perché era fino alle sei che durava il giro dei mezzi che doveva disinfettare un po' la città ci saranno altri interventi per cercare di eliminare le larve interventi larvicida che sono stati programmati da sindaco Ser Filippi vediamo Ancona Ancona un tuffo nel passato un amarcord una mostra che mostra Ancona com'era tempo fa apre la mostra che va alla scoperta dei luoghi di lavoro e di svago decine di fotografie d'epoca un viaggio nella memoria e poi c'è stato per quanto riguarda l'alluvione un articolo importante un summit in regione con i sindaci sui danni e rimbossi chissà se le popolazioni i privati avranno questo rimbosso e non solo il comune per i danni subiti nel sconvolgimento delle strade nelle frane nelle alluvioni che hanno procurato molti molti danni ma molti danni li hanno avuti anche i singoli cittadini che potranno chissà se potranno avere veramente dei rimbossi i vandali hanno fatto la loro comparsa a Senigallia al Parco della Pace e hanno distrutto i bagni vediamo anche la provincia di Ascoli e di Fermo a San Benedetto un incidente stradale schianto all'incrocio maledetto due donne ferite e poi concorso ipico Zorzi trionfa successo di pubblico un grande evento e invece ad Altidona una notizia di cronaca lite finita coltellata nel Residence una condanna per lesioni macerata ai giardini Diaz e oltre 300 persone a Coriadmo per aiutare la ricerca e sono diverse queste iniziative sportive a Fano per esempio sabato scorso si è svolta a Corifano sono iniziative sportive di grande adesione sono sportivi amatoriali che le frequentano e che le tasse di iscrizione e tutto quello che si riesce a raccogliere poi viene dato per beneficenza ai fini particolari a Fano e anche a Macerata si è aiutata la ricerca la fondo del Partito Democratico per quanto riguarda la politica su scuole e sanità soltanto le parole mentre a Civitanova controlli sulle strade ecco qua l'articolo un giovanissimo alla guida dopo aver bevuto troppo insomma i weekend sono sempre delle giornate molto molto sensibili per quanto riguarda il rinvenimento nelle strade di persone che non sono in perfette condizioni fisiche per guidare appunto i loro veicoli allora apriamo il giornale vediamo subito alla festa della protezione civile e in comi solenni ad oltre 2.500 volontari si è svolta ieri mattina la cerimonia in Piazza del Popolo per i cosiddetti Angeli del Fango che portarono soccorso nel settembre del 2022 per l'alluvione appunto a tanta gente tanta gente che aveva visto invaso le loro abitazioni dal fango e dall'acqua ricevendo parecchi danni perché poi quando entra l'acqua in casa distrugge mobili arredi impianti insomma veramente crea molti molti danni ed è stata premiata l'obbligazione di migliaia di persone che nel tempo libero si dedicano ad aiutare il prossimo per qualunque emergenza dobbiamo dire che una ricchezza una risorsa del nostro territorio è quella del volontariato per tante tante cose non solo per le manifestazioni dove c'è spettacolo dove c'è allegria ma anche dove c'è il dramma e questa è veramente una peculiarità della nostra protezione civile vediamo anche il raduno della Benelli il Benelli week la settimana in onore della Benelli termina in trionfo centinaia di moto tra mare e colline oltre ad essere la capitale della cultura 2024 pesa lo si può identificare anche come la capitale del motociclismo perché veramente qui vengono tante persone sono state calcolate pensate in 2000 le persone che hanno frequentato la Benelli week 2024 una manifestazione che ogni anno richiama appassionati della motocicletta tra cui anche tantissimi stranieri per celebrare la storia appunto della casa del Leoncino il simbolo del Benelli la giornata si è aperta si è aperta con la tradizionale cerimonia della deposizione della corona dall'oro al busto di Tonino Benelli che è stato il fondatore di questa casa ma domani sarà una giornata importante per Pesaro in un altro modo religioso ovvero domani si festeggia la festa del patrono Sant'Erenzio ebbene ci saranno tante cerimonie religiose tante le messe sono messe che verranno dette in cattedrale alle 8 alle 9 alle 10 e 15 alle 11.30 e alle 18 alle 16.30 poi sarà la celebrazione dei Vespri e alle 17 la processione la tradizionale processione per le vie del centro storico qui sono anche evidenziate il percorso della processione via per via alle ore 18 ci sarà una solenne con celebrazione eucaristica preseduta dall'Arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci e verranno poi riordinati i 25 50 e 60 anni di ordinazione sacerdotale e professione religiosa insomma ci saranno tante tante celebrazioni vediamo ancora le altre notizie che riguardano il nostro territorio vediamo Fano e parliamo della dengue disinfestazione ovunque battaglia battaglia a tutto campo contro la zanzara tigre questo insetto piccolissimo quasi invisibile perché poi sono zanzare che quasi non si vedono devo dire non sono quelle grosse gigantesche ma sono quelle che pungono e creano parecchi guai il sindaco Serfilippi ha dato il via ad un'operazione la rivicida in stretta collaborazione con l'istituto zooprofilattico verranno utilizzate pasticche da sciogliere e lasciare in laghetti stagni pozzetti caditoie e tombini allora questa notte c'è stato l'ultimo intervento di disinfestazione in tutta la città compreso il canale Albani che questo intervento st'ultimo è stato a carico di Enel Green Power però nei prossimi giorni l'amministrazione comunale partirà con l'operazione larvicida la faremo ha detto il sindaco in collaborazione con l'istituto zooprofilattico e anche in questo caso sarà interessata tutta la città saranno utilizzate pasticche da sciogliere in laghetti abbiamo detto stagni pozzetti caditoie e tombini insomma si cerca di insistere e di non così fare un intervento una tantum ma di proprio coinvolgere tutta la città perché poi la dengue è una brutta bestia insomma la maggioranza dei casi insomma si supera tranquillamente con qualche dolorino ma senza tanti problemi però insomma ci sono dei casi in cui veramente la zanzara si fa veramente importante vogliamo dire vigliacca volevo dire quest'altro aggettivo perché poi mette nelle condizioni che appunto di dover subire cure molto molto particolari veniamo anche torniamo a Pesalo e vediamo un fatto di cronaca dove un giovane di 32 anni si tratta di Patrick O o è la iniziale del cognome che alle 7 di ieri mattina è andato in escandescenze ha preso a calci la porta ad ingresso del bar Capris in piazza Lazzarini e si è diretto al bar le note in via Pedrotti dove si è scagliato contro i poliziotti che cercavano di placarlo era andato in escandescenze aveva dei problemi magari con una donna e ha cominciato a distruggere tutto insomma finché non è stato fermato e denunciato per per aver appunto reagito nei confronti dei poliziotti e questo è stato un fatto di cronaca vediamo anche quello che si sta per decidere in regione in merito all'alluvione danni e rimborso un summit in regione con i sindaci è arrivata una nuova e arriva arriva una nuova allerta la protezione civile infatti annuncia temporali anche nelle zone già colpite da forti piogge e allora cosa accade in accade che i rovesci potrebbero tornare a colpire appunto le zone già martoriate l'allerta gialla interesserà anche altre dieci regioni mentre salirà ad arancione ancora in emilia romagna che poveretta non ne poteva avere ancora di più di quante ne ha avute questo per quanto riguarda il resto delle carlino ora apriamo il corriere adriatico vediamo l'articolo di apertura è un articolo di urbanistica che cosa che cosa ci annuncia ci annuncia la realizzazione di un nuovo centro commerciale un nuovo centro commerciale che è già stato programmato da tempo nel piano regolatore e che sorgerà in zona Forcolo ovvero tra la Flaminia e via Valeria Moriconi un importante investimento saranno realizzati i tre corpi di fabbrica di cui quello centrale il più visibile e anche il più architettonicamente bello e due capannoni a latere ci sarà poi anche un parcheggio di scambio un parcheggio di scambio che è quel parcheggio che dovrebbe cercare di arginare l'invasione di veicoli a motore in centro a città con una mobilità più dolce o quella del bus navetta o quella appunto delle biciclette allora ciclabile parcheggio scambiatore nel centro commerciale di Forcolo approvate dalla giunta le risposte alle osservazioni ci sarà una grande attenzione all'aspetto idraulico ovvero alla regimazione delle acque dopo quanto è accaduto proprio in questi giorni ebbene vabbè che tutto il procedimento è antecedente ai quattro giorni di pioggia di questi giorni però insomma dopo quanto è accaduto in questi giorni è proprio opportuna l'attenzione che si presta a regolare il deflusso delle acque quindi fogne della capienza giusta vasche di laminazione tutto quello che può cercare di evitare allagamenti come si sono verificati in questi ultimi tempi dicevo che uno dei progetti più importanti previsti dal piano regolatore si estende su una superficie catastale di quasi 20.000 metri quadri 19.400 e poi insomma si dovrà si dovrà cercare questo è un rendering non so se lo vedete una piccola foto però insomma dà l'idea di un'ampia zona verde il parcheggio scambiatore l'edificio centrale poi a Latere ci dovrebbero essere altri edifici i grandi capannoni prima di iniziare i lavori comunque saranno fatti i sondaggi archeologici perché lì siamo proprio a due passi dalla consolare Flaminia e sappiamo che quella è una zona di 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 Bivio dove la Flaminia invece di dirigersi proprio come come via consolare verso Fano però c'era un diverticolo che la portava anche verso Fano saliva verso le colline per arrivare a Pesaro e quindi a Rimini e quindi sulla zona di Forcolo potrebbero esserci delle reminescenze di carattere archeologico Dengue 42 casi accertati ma ci sono altri 50 sospetti lo ha dichiarato il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Aste numero 1 di Pesaro Urbino Augusto Liverani 50 sospetti che sono stati denunciati dai medici di base di cui una trentina vengono così vengono accettati vengono così diciamo così visionati dai medici del reparto di prevenzione sono una trentina quelli a cui sono giunte le comunicazioni di presentarsi al centro di prevenzione comunque è un problema che insomma non cessa con l'ultima disinfestazione di questa notte ma è un problema su cui l'amministrazione comunale e il sistema sanitario continuerà a interessarsi per il Parco delle Meraviglie l'investimento di un milione il Parco delle Meraviglie sono i passeggi da tempo la vecchia amministrazione comunale aveva già predisposto un intervento di qualificazione dei passeggi su un progetto di cui indicazioni erano state date dal Laboratorio Città dei Bambini ora per trasformare queste indicazioni in un progetto vero e proprio è stato dato un incarico all'architetto Luca Fornaroli che insieme a Beatrice Farneti dovrà appunto seguire da vicino il lavoro del Consiglio della Città delle Bambine e dei Bambini verrà realizzato il Parco delle Meraviglie ci sarà un utilizzo abbondante dei colori ci saranno poi elementi rappresentativi del Carnevale ci sarà uno spazio destinato anche allo studio mi sembra giusto uno invece riservato ai picnic e dotato di panchine e tavoli un altro ancora consacrato al gioco e attrezzato anche di tunnel e labirinto insomma i passeggi dovrebbero essere rivoluzionati e qualificati per così farli giocare insomma dare un ambiente giusto per far giocare i bambini e vediamo anche l'esito l'esito del concorso di Clarinetto che le cui finali si sono svolte ieri e ieri nella giornata di ieri nella Pinacoteca di San Domenico è un'iniziativa questa che è stata organizzata dall'Associazione Arte e Musica e dalla Fondazione Carifano comunque dobbiamo subito dire che nessuno dei 22 concorrenti è riuscito a vincere il primo premio e questo dimostra un po' anche la serietà della commissione giudicatrice che è formata da professionisti di alto livello di alto grado tutti i primi i clarinetti dei teatri San Carlo di Napoli la Scala di Milano il Teatro di Bologna insomma veramente professionisti di alto livello ebbene nessuno ha vinto il primo premio ci sono stati due ex equo per quanto riguarda il secondo a pari merito al secondo posto è stata posta l'italiana Francesca Bolognesi che si è esibita su un brano di Brahms e il cinese Jun Wei Qi che vive a Parigi e ha scelto un brano di Debussy al terzo posto il giapponese Jen Tanaka che vive a Trasburgo e si è impegnato su un brano di Schumann passiamo a Monteporzio passiamo a Monteporzio dove ci sono delle critiche che la minoranza la minoranza consigliare nuova identità comune esprime nei confronti della giunta amministrativa si tratta di una decisione contestata il sindaco si aumenta l'indennità e spende 25 mila euro per un'auto si poteva fare a meno secondo loro come si poteva fare a meno di finanziare le spese per il torneo la svolta è davvero necessario ha detto la minoranza impegnare una cifra di 1200 euro per tale evento e più 25 mila euro per l'acquisto di un'auto di servizio per il comune insomma qui ci sono molte perplessità per quanto riguarda questa situazione vediamo anche la pagina di Senigallia Blitz al supermarket scatta l'allarme fermata la banda dei teenager in fuga era una banda firmata da 5 ragazzini tra i 15 e i 17 anni ebbene sono stati notati tramite le videocamere da una persona che ha subito allertato la guardia giurata della vedetta Mondialpol che a sua volta ha lanciato l'allarme alla centrale operativa e poi è stato chiamato il 112 sono questi ragazzini che chissà volevano fare chissà quale impresa poi sono stati fermati e tutti identificati e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci